eccomi qua con la seconda puntata andiamo a scoprire il protagonista di oggi nome carlo pederzoli nome d'arte bad spencer nato a napoli il 31 ottobre 1929 professione attore segni particolari è il gigante buono degli spaghetti western curiosità scovate dal web ben 6 curiosità numero 1 prima di iniziare la carriera cinematografica è stato un grande campione di nuoto conquistando diverse medaglie e fu il primo italiano a scendere sotto il minuto 100 metri stile libero curiosità numero 2 fu costretto a cambiare nome perché considerato troppo italiano prese il suo pseudonimo dall'amore per la birra bad weiser e la passione per l'attore spencer trisi curiosità numero 3 nel 1975 conseguì la licenza di pilota sul set di più forti ragazzi dopo aver visto lo stuntman lasciò tutti di stucco spiccando il volo con l'aereo in seguito collezionò duemila ore di volo fino alla sua morte curiosità numero 4 nel 1976 lanciò una sua linea di jeans curiosità numero 5 aveva la passione per la musica così scrisse ed interpretò varie canzoni tra cui in una nuvola in una nuvola di sogno ci sei tu io vengo lì interpretò anche la canzone mondialito del film uno sceriffo extraterrestre poco extra e molto terrestre con gli oli veronio come non ricordarle in questa interpretazione ciao a tutti e alla prossima puntata ciao